A Budrio, vicino Bologna, al Centro Ricerche dell'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazione, si studiano le tecnologie anti-siccità. Laura De Donato. Siamo arrivati a dover bagnare il grano. E' questo il paradosso che coltivatori e agronomi, esperti di acque per l'irrigazione, hanno usato per spiegare fino a che punto la pianura padana sia assetata. Abbiamo bisogno che tutti gli agricoltori siano messi in rete per poter far sì che tutti possano utilizzare l'acqua. Questo lo facciamo attraverso un sistema di consigli irriguo dove mettiamo in sintonia quelli che sono il dato meteorologico, ma soprattutto l'esigenza della cultura per mantenere una produzione agroalimentare di qualità e sostenibile. Qui a Budrio, vicino a Bologna, dal 1942 si fa ricerca applicata per la gestione delle acque. In origine un'attività legata al canale Emiliano Romagnolo, da cui dipende la coltivazione di 300.000 ettari di terreni ad alto rendimento, poi diventato riferimento dell'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazione. Questo è un sistema fitodepurante che è in grado di trattenere acqua, quindi metterla da parte, ma è anche in grado di migliorarla attraverso l'azione delle piante. Questo è un impianto pilota, un prototipo, in grado di catturare gli elementi nutritivi presenti all'interno delle acque per poterli poi riutilizzare in agricoltura come concimi. E questo nell'ottica di un'economia circolare. Quando la siccità richiede che si debbano irrigare anche colture che storicamente non hanno mai avuto bisogno di acqua per crescere, la priorità della ricerca è usarne il meno possibile con il maggior rendimento. Le paratoie intelligenti sono delle paratoie automatiche che si possono azionare da remoto e che riescono a misurare l'acqua che passa attraverso di esse. Questo ci permette di distribuire ai campi e agli agricoltori solo l'acqua che serve, avendo così un risparmio di sistema. Attraverso delle antenne che sono posizionate su di esse ricevono il messaggio. Questo messaggio dà modo all'apparatoio di aprirsi più o meno a seconda delle esigenze e restituiscono con la stessa antenna l'informazione di quant'acqua è passata al consorzio che sta gestendo l'apparatoio. Questi sistemi possono ricevere dati dai satelliti, dai sensori che misurano l'altezza dei canali, che sono integrati nelle stesse paratoie. Possono ricevere anche messaggi dalle nostre centrali di controllo. E sono comunque alimentate da un pannello fotovoltaico? Basta pochissima energia, sono intelligenti anche per quello. Poca energia, grande risultato. Grazie.